Quali sono i sintomi dell'intossicazione da cocaina? Esistono numerosi sintomi di intossicazione da cocaina, tra cui pupille ingrossate, dolore toracico, nausea, agitazione, iperattività e confusione. Mentre ogni persona reagisce in modo diverso al farmaco, i segni e i sintomi dell'intossicazione da cocaina sono solitamente presenti immediatamente dopo l'uso. Alcune persone si arrabbiano dopo aver usato la cocaina, motivo per cui è meglio evitare chiunque abbia usato questo farmaco di recente. In genere, l'uso di cocaina non consente a una persona di svolgere compiti quotidiani. Le persone che usano questo farmaco tendono ad avere difficoltà a comunicare con gli altri, seguendo le istruzioni quotidiane relative al lavoro e mantenendo gli appuntamenti. Alcune persone hanno anche difficoltà a concentrarsi su un compito dopo aver usato la cocaina. Mentre un battito cardiaco irregolare non è raro dopo l'uso di cocaina, è importante per chiunque viva un battito cardiaco accelerato in concomitanza con problemi di respirazione per cercare immediatamente assistenza medica. Un rapido aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca può portare ad un attacco di cuore. Se una persona è crollata a causa di un sovradosaggio di cocaina, è importante chiamare immediatamente un medico. L'uso di cocaina può anche causare una persona per sperimentare un ictus. Mentre i ricercatori medici non sono sicuri del motivo per cui il farmaco può causare un ictus, è stato scoperto che ha un impatto diretto sulle arterie coronarie di una persona. Quando queste arterie si restringono, in qualsiasi modo, spesso si verifica un ictus. Come nel caso di una persona che ha avuto un attacco cardiaco a causa dell'uso di cocaina, chiunque abbia problemi di ictus, difficoltà a parlare o parlare, dovrebbe consultare immediatamente un medico. L'intossicazione da cocaina può anche causare alcune persone ad avere allucinazioni. Le allucinazioni di questo modo variano da persona a persona, anche se questo stato psicologico, è spesso associato alla paranoia. Non è raro che una persona che ha usato di recente la cocaina diventi sempre più paranoica. Il più delle volte, le delusioni paranoiche sono una grande parte del consumo di cocaina. Se si sospetta l'intossicazione da cocaina, potrebbe essere necessario un intervento. Tattiche e tecniche di intervento possono essere ottenute contattando uno specialista di salute mentale. Inoltre, le cliniche di droga hanno spesso terapisti appositamente addestrati sul personale. Nella maggior parte dei casi, le persone che usano spesso la cocaina possono smettere di usare questo farmaco con l'aiuto di uno specialista di tossicodipendenza. Generalmente, l'intossicazione da cocaina non è difficile da individuare. Poiché l'uso ripetuto di questo farmaco può portare a gravi problemi di salute mentale, dovrebbe essere evitato a tutti i costi. L'uso di cocaina è illegale nella maggior parte dei paesi, anche se alcuni paesi consentono alle persone di usare la cocaina come forma di cura.